Ti può capitare di restare scoperto sulla tre quarti? Esatto, esatto. Lucas! Una confusione straordinaria! Che colpio fantastico! E con un vantaggio di tre gol, la partita è quasi chiusa. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, a quel punto di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Grazie!